benvenuti in questa guida top 7 guanti da portiere di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo guanti da portiere da calcio questi guanti da portiere sono fantastici la presa è forte l'antiscivolo e la protezione per le dita offrono una sicurezza ottimale sono morbidi al tatto e prevengono gli infortuni ottimi per adulti uomini e giovani consigliato punteggio 79 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo calcio portiere guanti per ragazzi questi guanti da portiere sono fantastici sono di buona qualità comodi e resistenti la taglia è perfetta per bambini ragazzi e adulti sono anche facili da pulire e mantenere ottimo acquisto punteggio 77 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo sport guanti per portiere per ho acquistato questi guanti da portiere per mio figlio e sono rimasto molto soddisfatto sono ben fatti con una buona vestibilità e funzionalità la protezione imbottita offre una buona protezione alle mani e riduce il rischio di infortuni ottimo prodotto punteggio 79 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare guanti per portiere per adulti questi guanti da portiere sono fantastici la presa è forte la protezione delle dita è eccellente e la vestibilità è perfetta sono sicuri e confortevoli riducendo il rischio di infortuni ottima funzionalità e qualità a un prezzo ragionevole punteggio 81 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo chi per chi in guanti da portiere questi guanti da portiere sono eccellenti sono realizzati con materiali di qualità e offrono una buona presa la protezione delle dita rimovibile è un plus in modo da poter scegliere se usarla o meno sono comodi da indossare e resistenti all'usura punteggio 93 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo lumazu guanti da portiere da questi guanti da portiere lumazu sono fantastici sono realizzati con un grip premium e un'imbottitura shock absorption per proteggere palmi e dita la taglia 6,7 è perfetta per la mia mano e mi sento molto sicuro quando l'indosso sono anche molto comodi e leggeri punteggio 93 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica t1 tan shocking beast 2.0 guanti questi guanti da portiere t1 tan shocking beast 2.0 sono eccezionali utilizzati in serie a offrono una presa sicura e un comfort eccellente sono disponibili in modelli per uomo e adulto e nella taglia 7 ottimi per i professionisti punteggio 94 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale